Secondo lei dove ha vinto De Luca? Segnatamente qui nella provincia irpina qualcuno ha contestato a Caldoro una scarsa attenzione alle aree interne, tanti tagli a cominciare dalla sanità, può aver pagato questo il governatore uscente? Non è stata una cattiva gestione il governo Caldoro, ha dovuto ereditare un qualcosa che poi in questi cinque anni ha portato comunque a termine. Io mi auguro che lo stesso faccia pure il neo eletto presidente Vincenzo De Luca di cui godo grossa stima, però un messaggio comunque va inviato a chiare lettere, amministrare una regione non è la stessa cosa di amministrare una città. Adesso la coesistenza tra De Luca e De Mita, secondo lei come procederà? Conoscendo il grande maestro De Mita che è uno stratega della politica, ha dottrinato l'Italia, è una persona che credo che prima che facesse questo passo nell'appoggiare il centro-sinistra, cioè significa Vincenzo De Luca, credo che comunque abbia raggiunto degli accordi prima. Quello che lui avrà, questo non sta a mi dirlo, ne posso immaginarlo, ma credo che comunque deve cedere una bella fetta del potere alla signor De Mita. Se governerà, intende come immagino governare attraverso la nomina di un vicepresidente, di una testa di legno, cosa che a mio avviso ugualmente non potrà fare, in quanto ritengo che il suo venirmeno porterà con sé alla decadenza di tutti gli atti che nel frattempo avrà adottato, se sarà riuscito ad adottarli. Per cui ci troveremo davvero in un gravissimo caos istituzionale, ma anche laddove si volesse in qualche maniera pensare di superare il problema e consentire che si governi attraverso un vicepresidente non si può non far notare che i cittadini hanno votato De Luca e si ritrovano un qualsiasi altro personaggio ignoto, ancora adesso ignoto, si troveranno questo signore a fare il vero presidente della regione Campania. Credo sia un atto di grande scorrettezza da parte del PD. Credo sia un atto di grande scorrettezza da parte del PD.